Volge al termine l'anno 2013, un anno che per molti è stato difficile. Ecco allora il sistema delle aree protette lombarde che dà la possibilità a tutti di poter osservare, di poter ascoltare, di poter annusare un ambiente, un ambiente naturale dove trovare quegli spunti, dove trovare quella serenità, quella tranquillità per affrontare l'anno che verrà. Un augurio sincero di Buon Natale, felice anno nuovo dal Parco regionale della Pineta di Appeno Gentile Tradate. Grazie.